Al via da Samani lo sciopero dei benzinai anche in Sicilia, nella nostra città le pompe chiuse per la maggior parte, anche se qualche esercente, Samani regolarmente esercitava la loro attività, presente anche un'autocisterna che scaricava il carburante nella pompa di benzina, alcuni di loro in funzione anche i self-service. In atto però proseguono le trattative tra governo e sindacati e non tutti si trovano concordi nel manifestare. La presidenza nazionale della FAEB con Cesar Centi, intanto si è riunita d'urgenza a seguito dell'incontro avuto con il ministro Urso, nella giornata di ieri sera ha valutato e ritenuto positive le aperture presentate e già formalizzate con un emendamento al decreto legge, dicendo così di ridurre a un solo giorno la mobilitazione. La decisione verrà presentata alla riunione del coordinamento con le altre sigle fissate nella mattinata di oggi. Se da un lato c'è chi cambia idea all'ultimo momento, dall'altro vi sono le sigle sindacali che invece confermano la serrata, troppo poco e troppo tardi per revocare lo sciopero, che quindi rimane confermato così in una nota ai presidenti di Fegica e Figgis Anisa, che spiegano che il tentativo in extremis fatto dal ministro Urso, peraltro apprezzato non riesce a intervenire con la necessaria concretezza. Sono ore di cambiamenti, giravolte dell'ultimo minuto e rimovibili conferme quelle che procedono all'inizio dello sciopero dei benzinai, programmato per le 48 ore consecutive. Durante le 48 ore di sciopero sarà possibile fare comunque rifornimento in alcune stazioni che rimarranno aperte sulla rete stradale ordinaria, il lumino minimo di pompe aperte scelte dalle singole prefetture e pare al 50% di quelle attivi nei giorni festivi.